arrivato il pullman della roma intorno alle 7 e il quarto qui allo stadio olimpico grandissima l'attesa sold out più di 62 mila spettatori per il big match di questa giornata di serie a i giallorossi devono vincere per mantenere il terreno sulla lazio e tornare in zona champions ascoltiamo le parole dei tifosi alla vigilia di questo importante incontro che sensazioni avete per la partita perdona per la partita l'emozione per la partita very much where are you from mexicano mexicano tuo giocatore preferito attualmente di valla grazie che sensazioni avete per la partita speriamo di spaccarli tutte diciamo le membra grande che sensazioni ha per la partita buone sensazioni da chi vi ha aspettato una grande partita la formazione la conosciamo io spero che giochi belotti e faccia tutto perfetto grazie dai